a vivere una nuova giornata di Ippica, questa volta impegnando in sei corse quelli che sono i cavalli a distanza all'ippodromo di Siracusa, sabato 16 maggio. È un sabato 16 che è anche ascensione, periodo di festa per il comune di Floridia. Vi ricordo che c'è un programma che è partito già da ieri sera. Sabato ci sarà lo spettacolo equestre di Vera Loforti alle ore 21, prima la sfilata alle ore 19. Il cavallo sarà presente, peraltro si vocifera con tantissimo entusiasmo il ritorno del palio Ippico che magari non sarà organizzato per la domenica in questione dell'ascensione 2015, ma forse nel mese di maggio. Il Ministero ha dato la sua approvazione con un suo funzionario sceso a Floridia al progetto che è stato presentato da parte dell'amministrazione e adesso si aspetta soltanto quel piccolo sì che dovrebbe a questo punto giungere da parte della Questura, che è comunque l'ultima parola su quello che riguarda più che altro l'ordine e la sicurezza. Ancora una volta su corso Vittorio e Emanuele potrebbero ritornare quindi le corse dei cavalli. Lo spettacolo è affidato stasera ai Cubeta, ci sono delle band locali prima e i Tinturia domenica invece 17. Noi come Podromo continueremo naturalmente a promuovere la nostra Ippica anche all'interno del nostro spazio e quindi nella struttura polifunzionale di Contrada Maeggio Spina Gallo. Intanto vi presento i nostri ospiti, sono giovani e ci hanno raggiunto stamattina, li ringraziamo. Raffaele Gambino, proprietario, grazie di essere qui. Grazie a voi, è sempre un piacere venire qui e dare commenti sulle corse che fanno ogni sabato e ogni volta che fanno le cose. Grazie, grazie mille. E Peppe Cuccia che non si allontana da quello che è i pronostici nel nostro gruppo, peraltro stai insieme al team Lastrina Correnti, quindi sei un appassionato che vive l'Ippica. Sì, sì, intanto buongiorno a tutti e grazie a loro che mi invitano ogni volta per dare questi pronostici, sperando di fare vincere alcune persone. Come i giovani vedono l'Ippica oggi? Con entusiasmo o ancora con i rimorsi degli adulti? Dipende dalla passione che c'è dentro di loro. Se una ha la passione fin da piccolo... Tu che sei giovane come lo vedi? Più di entusiasmo o con qualche rimorsi? Vedi i problemi che ci sono all'interno dell'Ippica e dici, boh, speriamo che migliori. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Gambino. Dare un futuro, appunto, ora come ora, un futuro all'Ippica non penso che sia il top, soprattutto l'indomani, se avrò dei figli, se dovesse avere figli, non penso di dare un futuro a loro, considerando la situazione che abbiamo ora come ora nell'Ippica italiana. Però se un indomani dovesse migliorare, è bello dare l'Ippica ai giovani. Sperare questa bella... Perché è bella e cerco anche, spero, magari possono migliorare l'Ippica come in Inghilterra, in Francia, che lì si vive solo ed esclusivamente di cavallo. Speriamo in uno scatto di orgoglio. Diamo il benvenuto anche al web, Sabina Rizza. Ben ritrovati anche dal web, dal nostro box interattivo. Grazie ancora una volta per essere qui con noi, per allietarci la nostra puntata con i vostri pronostici. Vi ricordo di farceli arrivare attraverso Facebook, il gruppo di Cavalli d'Intorni. Vi ricordo di seguire, se volete, la nostra puntata in diretta streaming dal sito web dellestarsr.it e di riseguire, se volete, le nostre repliche attraverso il canale di 217 del Digitale Terrestre o su YouTube cliccando dell'esterno di Estar. Allora, i prossimi appuntamenti invece che riguardano l'ippodromo di Siracusa sono naturalmente relativi al 2 giugno. Si aspetta questo handicap principale che vedrà impegnati, mi pare, i tre anni. È un handicap principale teatro, il premio teatro greco, peraltro in coincidenza con le rappresentazioni classiche qui a Siracusa, quindi chi si vuole fare un viaggio godrà anche di quella che è la buona ipica, legata invece al gran galà dell'asino, del mulo e del cavallo. Ne vedete il manifesto, è il 2 giugno dalle ore 15 in poi. Quest'anno abbiamo pensato di promuovere tradizione, cultura, arte, spettacolo e lo sport attraverso questi equidi che hanno scritto la storia della nostra Sicilia, e quindi il cavallo, il mudo e l'asino. Cosa ci sarà? Ci saranno le corse degli asini, gli antichi carretti, le esibizioni dei mulari siciliani, associazione che sarà presente qui con noi, ancora le gare hippie con il Gran Premio, il battesimo della sella e le ambientazioni storiche, in abiti storiche, grazie alla collaborazione con il Comitato dei quartieri di Canicattini Bagni e il Palio di Canicattini Bagni che appunto sta collaborando con l'ippodromo insieme naturalmente alla fattoria di Cugno Lupo e del signor Cavalieri che non ci lascia mai e quindi rivedremo gli asinelli. Cosa rivedremo? L'abbiamo sintetizzato in questo spot. Tania, Salvina, Bianchina, Agatina, Jack, Nsulo, Lucia, Frank sono pronti schierati sui tracciati dell'ippodromo del Mediterraneo per vincere la terza edizione delle corse con gli asinelli. Qualsiasi espediente pur di accaparrarsi il premio, c'è chi cercherà una spinta in più dal proprio ciuchino, c'è chi li affiancherà nella corsa, chi invece proverà un distinguo giocando con i colori, chi li inciterà affinché non finiscano a brucare erba, chi dopo qualche piruetta cercherà la giusta direzione. Insomma, il simpatico spettacolo è garantito. La terza edizione del Gran Gala dell'Asino, del Mulo e del Cavallo è il 2 giugno all'ippodromo del Mediterraneo. Corse degli asini, caroselli con i muli, battesimo della sella, rappresentazione delle tradizioni popolari e contadine con costumi dei primi del Novecento, antichi carretti e arredi museali. Il galoppo metterà in scena il premio teatro greco, handicap principale C per i tre anni. Gran Gala dell'Asino, del Mulo e del Cavallo. Il 2 giugno all'ippodromo del Mediterraneo. Tradizione, cultura, sport e spettacolo. Il regolamento l'abbiamo pubblicato stamattina sul gruppo Facebook di Cavalli ed Intorni, quindi chi lo volesse insomma vedere è pubblicato lì, il regolamento è chiaro. I Fantini avranno precedenza per le iscrizioni su Cavalieri e Mazzoni che dovranno avere comunque la patente regolarmente rinnovata con la Fiseo e il Self Italia. Dovranno essere maggiorenni, andranno a sorteggio, sarà a cura dell'ippodromo poi organizzare la monta e le diverse monte tra Fantini e Asinelli. Gli Asinelli sono quelli della fattoria Cugno Lupo, le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 22 alle ore 10 del mattino, quindi avrete tutta una settimana di tempo per poter appunto iscrivervi con l'apposito modulo. C'è tanto anche di rievocazione di quello che è stata la prima e la seconda edizione. Naturalmente chi ha vinto nelle precedenti edizioni e vuole partecipare di diritto entra tra i partecipanti, visto che comunque lo spettacolo l'ha garantito. Penso a Tony Fusco che comunque ha dato anche il suo sta bene per la fotografia, il manifesto che riempirà dalle prossime settimane tutta la provincia di Siracusa e Roberto Amaradio che era praticamente l'ex vincitore che comunque lo scorso anno veramente si è speso tantissimo regalandoci simpatiche emozioni. Peppe Cuccia ti sei scritto? Sì. Sei scritto anche Peppe Cuccia, quindi adesso andrai a sorteggio poi per le posizioni rimanenti. Speriamo bene. Allora, fatto questo basta, passiamo alla schermata del concorso perché ci saranno, c'è da decretare quelli che sono i vincitori. Intanto grazie per chi ha partecipato al concorso anche nelle settimane scorse. Simone Evitabile insieme con Nino Indomenico, insieme con Nino Indomenico c'è un punto interrogativo, dobbiamo verificare alcune cose, forse è un punto in meno, verificheremo. Jacopo Pizzasale e altri hanno avuto tre punti rispetto agli avversari. È stata comunque difficile il pronostico della scorsa settimana, pochi hanno indovinato i vincenti, si è stilata una classifica e se la regia mi dice che stiamo per essere pronti e salvare la schermata che è stata modificata, possiamo praticamente vederla perché ancora una volta c'è un ex equo, eccolo qua, in primo posto. Vitabile Simone, Peppe Gallo. È salito Simone Vitabile a parità. Eh sì, perché ne ha beccati ben tre l'ultima volta, quindi è salito Simone Vitabile insieme con Peppe Gallo e Russo Salvatore, sono arrivati appunto a parità. Secondo posto per Oriana Peppe, terzo Nino Indomenico, che se si dovesse insomma insieme con Pirlos a Andrea, che è il piccolo Lastrina, verificheremo poi il punto di svantaggio che il signor Nino Indomenico sottolinea ci debba essere. Alessandro Giustolisi, Diego Cutrale, sono lì insomma al quarto posto con Erosse Pedà, Vito Pedà, praticamente i fratelli camminano insieme, abbaiati, Giuseppe Brancato, Emanuele Vaccaro, Giovanni Olandese, Peppe Guccia, sei a 19 punti, ti devi impegnare Peppe, ti devi impegnare. E poi abbiamo ancora chi? Tu partecipi? No, io non sapevo di quello. Tu partecipi? No, no, io non... Gambino, non lo leggiamo Gambino. No, mi sa che sono al di sotto della classifica. Raffaele Gambino, ah lasciamo perdere, Raffaele Gambino, non lo diciamo. Va bene, allora, vi dovete impegnare di più. Hai partecipato poche volte però, devo essere sincera, ecco perché non hai avuto punti. Magari ti rifai da poi settembre in poi. Comunque sia, classifica molto aperta ancora, considerate che c'è fino alla fine del galoppo, quindi ancora avete tutto il tempo. Mi piace che state gareggiando in tanti, anche pur non sapendo poi quale sarà il premio finale, quindi questo significa che lo spirito agonistico è al di là di ogni qualsiasi premio. Basta con le chiacchiere, ci infiliamo nell'ippica, quella nostra, quella siracusana. Allora, andiamo subito con la prima corsa e partiamo dalla prima perché è una dei buttanti da 11.000 euro di Montepremi riservate due anni, 1.100 metri in pista piccola. E qui diamo spazio subito a voi. Che notizie portate dalle scuderie, tipi di allenamento, la genealogia, le chiacchiere, che si dice? Beh, io stranamente non ho seguito bene i puledri. Sei preparato? No, non ho seguito bene i puledri, quindi posso dirti il numero 3, King Demonte, che ha lavorato bene nella sabbia, grazie a lui perché io non lo sapevo. Quindi, però butta sull'erba, quindi è un'incognita. Poi tutti gli altri puledri non l'ho seguito. Vediamo Peppe, Peppe che ci racconti. L'ha detto lui. Ah, l'ha detto lui, ti ha fregato la rai. Il numero 3, King Demonte, è quello preferito in studio a questo punto. Sì, e poi c'è quello di Mark Cuschieri. Allora, vi dico io di Mark Cuschieri, perché quando abbiamo fatto lo speciale con Eva Crosetta, abbiamo praticamente fatto una sorta di incursione all'interno della scuderia di Mark Cuschieri e abbiamo praticamente visto che i puledri si stavano allenando nella piscina, nella giostra con l'acqua di mare, quindi nella giostra con la piscina. E proprio ci stavano i puledri di due anni perché così si potenziavano i muscoli. Loro avevano buoni propositi e soprattutto avevano avuto delle buone sensazioni anche per le prove starter che poi vengono fatti per i due anni. E quindi dice, comunque rispetto a questo riferimento, My Sassy Week è il numero 6 dello schieramento sono, diciamo, i più seguiti. Mentre a buoni mezzi e a buona generologia anche il numero 2 dello schieramento. Naturalmente è sempre una corsa incognita perché è la prima volta che corrono, quindi, boh, vediamo un po' che cosa succede. Ma che ne pensano gli altri? Sentiamo Claudio Impelluso e Giuseppe Bologna su King de Monte. Anche King de Monte ha la prima uscita in carriera. Come valutiamo questo soggetto? Il calo sta abbastanza bene. È pronto per debuttare. Dovrebbe correre abbastanza bene. È un ottimo cavallino. Sicuramente farà vedere qualcosa più avanti e farà la sua corsa. Chi sembrerebbe pronto per il successo? Di chi si parla? Ma si parla di questo che monta Cannella. My Sassy Week. Poi ho molta fiducia anche in Dinasti d'Or. Ho visto lavorare l'altro giorno. È un ottimo soggetto. Dovrebbe correre abbastanza bene. Presentata in una buona condizione dall'allenatore Claudio Impelluso, King de Monte. Come lo valuta Giuseppe Bologna? Guarda, io l'ho visto lavorare l'altro giorno in sabbia e il cavallo ha lavorato bene. Però dicono che i cavalli di Ruscher sono leggermente più avanti. Quindi secondo me sarà un terzo favorito. I primi due saranno quelli di Ruscher. Ancora intervista a Carmine De Bernardo, caporale di scuderia di Rubbera Antonino, su Dinasti d'Or, che è una delle favorite. Parmine De Bernardo è impegnato con Dinasti d'Or. Come lo valuta? Il cavallo nell'ultimo lavoro ha corrisposto bene, ma per le voci di scuderia il puleto debuttante da battere è quello sempre di Papa Salvatore, di Marco Buschieri. Quale tra i due? Ce ne sono due in corsa. Il Baio, quello che monta Cannella. Ok, ma è sexy week. E degli altri cosa ci può dire? Non mi dispiace quello di Guerrieri, di Restuccio Marcello. Archimede, che fece la prova starter insieme al Dinasti d'Or e non mi è dispiaciuto. Insomma, tentiamo per una piazza. Sì. C'era anche Giuseppe Gettilesca, impegnato su questa corsa, all'intervista e parlando di Labdaco. Prima uscita anche per Labdaco. Cosa ti aspetti? Ma guarda, lo monto con fiducia. Il cavallo sull'erba, penso, perché ho fatto la prova starter in sabbia, non è andato benissimo, però sull'erba penso che migliori. Il cavallo dà la genealogia che appunto fanno i terreni buoni. Come favorito io do ovviamente quelli di Scuderia Cuschieri, che sono vociferati bene, quindi do il 5 e il 6. E come terzo il numero 2 di Dinasti d'Or. Accoppiata, sentendo dopo queste interviste, avanti che avete le idee più chiare, accoppiata in ordine. Beh, diamo la Scuderia, dato che c'è questa voce, però io resto sempre nell'incognita che i debuttanti sono sempre debuttanti. Quindi diamo 5 e 6. 5 e 6. Diamo 5 e 4, diamo un fiducio al Gendiresc, ha detto che ne debba va abbastanza bene. Bene, vediamo dal web invece, Sabina. Allora, debuttano i maschi di due anni, questo è il parere del signor Massimo Bonerrigo. Intrigano un poco il duo di Mark Cuschieri con My Sassy Week, che è quello che nasce meglio dei due, affidato alle sapienti mani, idrati del gioche cannella. Il compagno Prezel Logic potrebbe essere una comparsa, questo è quello che pensa il signor Bonerrigo. Altri soggetti che si segnalano sono King de Monte, che ha un pedigree tutto basato sullo speed, e Archimede, affidato a guerrieri per genealogia da seguire, soprattutto sui terreni allentati. Insomma, quindi My Sassy Week, Prezel Logic e Archimede, per il signor Bonerrigo. Adesso invece passiamo a vedere i pronostici invece di Giorgio Spadaro. Adesso aspetto che si carica un attimo la pagina. Ecco qui, dunque, i pronostici di, insomma, si affidano sempre a Mark Cuschieri, è il duo presentato appunto da Mark Cuschieri, per quello che si dice, per quello che si chiacchiera, e poi King de Monte è un'altra alternativa, insomma, la prima alternativa al binomio presentato da Salvatore Papa. Diego Cutrale parla di una corsa debuttanti che vede favoriti il numero 3 King de Monte, insieme a Dynastidor, e insieme a My Sassy Week. Quindi un po', cambia un po' quel pronostico, Diego. Allora, aspettando invece di parlare della corsa principale, la condizionata in quarta corsa, scendiamo pian piano, l'apertura avevamo detto affidata a queste debuttanti alle 15.40, invece la seconda corsa è alle 16.10, un handicap discendente, tre anni oltre che dovranno affrontare la distanza dei 1.100 metri in pista piccola, e sono otto al via. La qualità è espressa dalla perizia, perché 64 kg ad Excel Pride e le editari che arrestano sicuramente i migliori dell'otto. Ayrzan ha avuto un buon rientro, giudica lo stesso Vincenzo Schiavone, che ci suggerisce l'analisi della corsa. Sopran Rerosa vince all'ultima, quindi dovrebbero essere un po' questi i primi quattro, i cavalli protagonisti della corsa. Che ne pensate? Siete d'accordo? Excellent Pride ovviamente è di categoria superiore, ha vinto l'otto e otto in sabbia, però lo ripresenta nell'erba, dobbiamo vedere, è sempre un'incognita, adesso è sempre il cavallo da battere. Poi abbiamo le editari che rientra, dicono voci di scudire che non è al top, però a me piace molto anche Sopran Varek, che è rientrato bene, è Sopran Derosa. Ok, 5-4, quindi con l'uno. Ayrzan non ti piace proprio? No, doppia fiducia a questi cavallini. Scusa se ti messi in difficoltà. Pecuccia invece? Io Sopran Rerosa, l'ultima, mi è piaciuta molto come vince. Ora provano di nuovo i paraocchi, 1100 credo che si può riconfermare. Un pesino interessante, 56 kg e mezzo. 56 kg e un bel peso. Poi una sorpresa che corre bene con questo pesino, la distanza sembra sua, il terreno credo sia duro, quindi serena d'arborea. Il numero 7 dello schieramento. Il numero 7. Questa è un po' la sorpresa, diciamo. Sì, è una sorpresa. Bene, vediamoci le interviste, visto che le abbiamo nominate sull'Editari, sentiamo Franco Lo Giudice. Torna in pista l'Editari dopo uno stop. Qual è la sua condizione? La condizione, diciamo, non è delle migliori, però la cavalla sta bene, anche se è un po' gravata al peso, non so perché, però è gravata al peso. Comunque è una corsa un po' antipatica per tutti. Giustamente l'Editari fisicamente sta a posto, però vediamo come esce la corsa. Chi potrebbe infastidirla soprattutto? Ma secondo me il cavallo sempre da basso sarà Airzan, secondo me. Poi ci sarà pure un'altra cavalla a me piace, è sopra Rerosa, ultimamente ha vinto, è sopra Mvarek. Quindi comunque i primi cinque sono sempre nominati, lo stesso Lo Giudice nominava Airzan, ne parliamo con il fantino Giuseppe Gentilesca. Corre bene il rientro Airzan, finisce terzo, oggi viene riproposto a distanza di una settimana, come valuti la compagnia? La compagnia la sopportata, anche il peso è buono, non è tanto severo. Il cavallo è rientrato alla grande, in una distanza un filino lunga, un discendente da 8,8, perdendo da buoni cavalli, quindi penso ci abbia la prima chance. È una corsa abbastanza equilibrata, anche il numero 4 di sopra Rerosa l'altro giorno ha fatto vedere di sapere andare anche in Zabbia, ma in questo autunno ha fatto vedere di sapere vincere anche i terreni buoni, battendo appunto a me con Airzan, in un discendente da 5,5. Qui il peso è ottimo, e quindi penso questi due cavalli si contenderanno la corsa. Vedo un po' sacrificato al peso il numero 2 di Leditari e il numero 1 di Excel Pride, anche se di buoni mezzi. Excel Pride all'ultima vinceva un discendente da 8,8, ma in sabbia. Adesso lo vedo un po' penalizzato al peso, comunque sono sempre pronti a piazzare la stoccata vincente, anche perché sono cavalli di buoni mezzi. Comunque vedo un match a due tra il numero 3 e il numero 4 di Sovra Rerosa. Sempre puntuale l'analisi di Giuseppe Gentilesca, dal web invece Sabina cosa aggiungiamo? Allora, dal web aggiungiamo che Massimo Bonerrigo parla di una Sovra Rerosa che ha vinto e convinto in un handicap complesso in sabbia qualche settimana fa, così come ricordava Giuseppe Gentilesca. Dice nel 2014, una volta ritrovata la forma a seppe in anellare, ci ricorda, vittorie, piazzamenti e ripetizione, nel contesto ancora a peso possibile è monta, importante. Nel pronostico però le vuole anteporre Shulpas, che è un'unica vittoria nel 2013, l'ultima finisce attaccata, proprio vicinissima a Sovra Rerosa e la vede migliore sul tracciato erboso. L'editaria Irzan sicuramente in categoria alla portata, ma hanno qualche chilo di troppo e potrebbero intervenire di spunto. Chiude, sintetizza in tre nomi, quindi la terna signor Massimo Bonerrigo parla di Shulpas, Sovra Rerosa e l'editari. Ancora io volevo invece fare il pronostico, riportarvi il pronostico di Diego Cutrale, che parla di un'Erzan che fa un buon rientro e lui lo annuncerebbe pronto per la vittoria. Attenzione anche ad Excel Pride e all'editari. Quindi comunque se Diego Cutrale si esprime su tre cavalli di Enzo Cutrale dicendo il numero tre, possiamo dire insomma che hanno più fiducia sul peso meno impegnativo diciamo di Airzan che non su Excel Pride e l'editari. Bene così, andiamo alla terza di Corsa invece abbinata all'Ippica Nazionale una vendere sui 1200 metri dove protagonisti sulla sabbia saranno i tre anni. Sono dieci al Via, ci sono buoni riferimenti sicuramente per Assalia che deve provare in prima uscita la pista siracusana quindi l'incognita sarà sicuramente la sua adattabilità al terreno siracusano ma sicuramente buoni riferimenti. Happy Cousin che va meglio sulla breve distanza e quindi dovrebbe spimmersi meglio rispetto alle ultime prestazioni attenzione anche al numero dello schieramento che si adatta bene a questo schema è sicuramente un soggetto da seguire la leva di Melania Cascione che ci prova anche con Lux in Arcana C'è qualcuno che spicca secondo voi rispetto agli avversari in questa corsa una corsa abbastanza aperta Peppe? C'è il Neoglitter ma rientra da un bel po' di tempo e poi è in sabbia 1200 metri credo che sono proprio per farlo rientrare per fargli ritornare la corsa sulle gambe poi i favoriti credo che siano sempre gli stessi Lux in Arcana Happy Cousin che corre molto bene in sabbia su questa distanza si trova molto bene e non lo so pure body pure body che a me piace quindi potrebbe essere una delle papagni si una delle papagni Raffaele sei d'accordo? a me piace tanto il numero 5 che vince con 64 kg la penultima volta l'ultima volta è seconda sempre con 64 kg e mezzo se non sbaglio quindi penso che il cavolo da battere sia il 5 Lux in Arcana insieme a? insieme a al 7 Neoglitter lo diamo per affrontato categorie più superiori e poi diamo il 4 che è tracciato in sabbia ha comunque buoni riferimenti si questa cavallina magari gli mancano le vittorie però è sempre regolare lì sul palo sentiamoci le interviste partiamo da Marco Cocuzzi Giuseppe Bologna su Lux in Arcana e Rainbow Angel Lux in Arcana e Rainbow Angel entrambi soggetti degli ottimi mezzi che ben frequentano questa vendere si come ben dice soggetti di ottima forza hanno bene in ultima forma sempre che i cavalli da battere per me in questa corsa sono Epicusin che già abbiamo incontrato battendo battendo la grigia occhio anche alla novità sta a salia ma siamo ben fiduciosi su Lux in Arcana guarda Rainbow Angel in erba forse fa meglio l'erba nel 1400 adesso nella velocità penso che Lux in Arcana sarà qualcosa migliore perché comunque la in sabbia va meglio poi altri vedo vedo Eppi Cusin Eppi Cusin e no Lux in Arcana e Rainbow Angel quindi comunque sono quelli i cavalli anche sul web Sabi? allora vendere micidiale la definisce Massimo Bonerrico con diversi soggetti che hanno militato onorevolmente in compagnie più agguerrite piuttosto soggettive le scelte quelle sue sono rivolte a Rainbow Angel pur chiusa su linea non recentissima da Eppi Cusin che a sua volta ha palesato importanti passi in avanti e non sfigura l'ultima cross Montaigne potrebbe essere un'idea peraltro favorita dall'appoggio della compagna di scuderia Lux in Arcana quindi potrebbe sfruttare questo gioco di scuderia una Lux in Arcana che avrà un peso meno impegnativo rispetto all'ultima e che dovrebbe essere la più appoggiata al gioco dei piazzati Mamoggiada è piuttosto qualitativa e stimata Neon Glitter scala dalla condizionata ma ultimamente non ha convinto e quindi si tratta questo di un insieme rientro per quanto riguarda invece la novità tanto acclamata qui a Siracusa a Salia al nord dice Massimo Bonerrico è andata piano soprattutto nell'annata e Denzelarta delusa più riprese a Roma ma per genealogia scusate steccato non sarebbero da escludere a priori bene andiamo invece a concentrarsi su quella che è la corsa principale di questo convegno di sabato 16 all'ippodromo del Mediterraneo e il premio Eliseo doppio chilometro in pista sabbia per i tre anni oltre per una condizionata da 11 mila euro peraltro abbinata all'IPICA nazionale apro e difenditi 56 e mezzo futuro anteriore paga le somme vinte ultimamente 61 kg c'è anche il buon Gasque c'è Easy Ring che ha validi riferimenti c'è l'Aroileo e il London River e l'Igriculus che non si possono escludere ma c'è soprattutto Piave e Preston che hanno già dimostrato di vincere gran parte di questa categoria sono esperti della sabbia in provi simili si sono espressi sempre bene Preston viene da una prova romana fatta a Capannelle dove arriva sesto a marzo non si è spesso bene ma qui aveva vinto praticamente rivedremo anche la corsa la sorpresa è il numero 10 di Time Trial che l'ultima volta ha fatto bene naturalmente sarà leggermente di categoria come li mettiamo in ordine questi soggetti questi cavalli? è una condizionata un po' aperta a tutti con le linee sceglieresti? anche difenditi non è da escludere ha sempre corso col peso alto stavolta ha 56 e mezzo però difenditi da non togliere Piave Preston quindi ti do Piave Preston e difenditi dai ok invece aggiungeresti chi Peppe? io l'eroleolè perché su questa distanza della sabbia lei si trova abbastanza bene e poi Gaschia naturalmente ricordiamo che vince l'antica principale è un cavallo di mezzi sicuramente è superiore è superiore rispetto a qui ce n'è di qualità in questa cosa è una bella condizionata è riuscita una bella condizionata allora però Preston aveva messo d'accordo e vi facciamo vedere il premio Campis e stiamo parlando soprattutto della fine di febbraio già Easy Ring Piave Gaschia Futuro Anteriore c'era Super Refuse Zenas Gentile Abruzzo e Lear Oile era su pista sabbia era a un doppio chilometro e Preston appunto montato da Giuseppe Cannarella aveva messo tutti dietro sé sentiamo Cavalli ai 200 finali con Preston che passa di slancio a largo dello schieramento è passato in vantaggio Preston quindi Easy Ring e Piave ancora Gaschia siamo nel tratto finale con Preston in piena spinta all'interno ci prova Piave Preston e Piave lotta serrata Preston quindi Piave Easy Ring tutti vicini sul palo vediamo che ci sono delle linee che si incontrano quello che cambia è un po' la perizia perché Preston Piave è ancora più pesante a differenza di di chili Easy Ring che comunque hanno alzato sicuramente il peso però diciamo quello che cambia sono la scala pesida da valutare lo facciamo e facciamo intervenire proprio su questo discorso e quindi Preston Piave anche gli addetti ai lavori Claudio Empelluso e Giuseppe Bologna da poco alla corte di Claudio Empelluso Piave è un soggetto che a Siracusa si è già messo in evidenza si è un ottimo soggetto è un cavallo abbastanza regolare è un gran lottatore sicuramente qui è penalizzato un po' dal peso però è un cavallo che ha tanto cuore gli piace correre e lui sicuramente è della partita anche con un peso così gravoso è un cavallo che ha corso in gentleman ha portato anche 72 kg 73 kg sicuramente ha una chance in questa corsa Nella compagnia chi potrebbe sfruttare qualche chilo in meno rispetto a Piave? Beh qui c'è Preston che è un cavallo che sulla sabbia ha già vinto due condizionati ha un altro cavallo che piace tantissimo è il Siring che ha 59 kg e poi Time Trial che ha una grande condizione per il resto hanno tutti qualche margine di vincere sono tutti degli ottimi cavalli anche difenditi c'è 56 e mezzo può dire la sua Può fare l'arrivo in questa condizionata a Piave? Guarda come sta andando l'ultimo periodo sì anche se è corso in erbo quindi il cavallo può darsi la mille stella velocizzato un po' sulla sabbia lui ha corso benissimo però ci sono due o tre cavalli che fanno bene le condizionate come Preston e come Time Trial che sono dimostrati essere cavalli di ottimo livello poi sì Piave lo metto però ci sono altri cavalli come i siringhi le oleole gli danno qualche chilo in meno però secondo me i cavalli saranno Preston e Time Trial dopo circa un mese si rincontrano di nuovo sui tracciati dell'ipodromo del Mediterraneo è il 21 marzo quando nel premio SAF un discendente sul doppio chilometro ancora una volta in pista sabbia Piave vince aveva 64 kg mette dietro ancora Easy Ring Golden General London River è Lear Oeleo Ele Trovo un varco London River quindi Golden General cavalli ai 200 metri finali con Lear Oeleo Elea attaccata all'esterno da Piave Easy Ring poi London River Piave all'interno quindi Easy Ring lotta 3-2 con Piave Piave che mantiene la meglio su Easy Ring poi Golden General Il peso non l'hanno sentito 64 kg però mancava il loro rivale Preston che ne pensate? Vince Piave con 64 kg gli dava 5 kg al 4 quindi stavolta ne dà quanto sono? ne dà 3 ne dà 2 quindi 2 e mezzo 3 non penso che sia un problema per Piave certo mancava Preston che ritorna di nuovo in sabbia trovando un terreno magari più morbido che a sua gradazione sottracciato preferito sottracciato in sabbia quindi secondo voi la linea è questa Preston Piave Easy Ring e Time Trial come ci entra in questa trio? e come ci entra Defendity? ci entra? te l'ho detto prima la condizionata diciamo anche se stiamo non andando cioè Time Trial e Defendity valgono Preston Piave Easy Ring? lo facciamo dire se è chi? a Stefano Postiglione vediamo che dice di Defendity ancora protagonista propabile Stefano Postiglione con Defendity meglio periziata e Easy Ring che comunque ha dimostrato di andare bene a Siracusa Sì il cavallo è cresciuto tanto ora siamo abbiamo già corso in questa categoria ma fra chili e distanza insomma il cavallo penso che potrebbe correre molto bene questa corsa però ovviamente c'è sempre l'incognita Preston il Time Trial numero 10 che è migliorato tantissimo e ovviamente va anche in discussione il cavallo Gasquet che è un cavallo che sappiamo che ha dei buoni mezzi e può contare tantissimo in questa corsa sorpresa guarda non lo dico mai però secondo me una sorpresa potrebbe essere Defendity oggi bene quindi visto un po' quello che proponevamo insomma con le interviste andiamo sul web sapi che cosa confermi? allora andiamo con sempre con Massimo Bonarrigo preciso e puntuale oggi e lo ringrazio particolarmente allora sale il livello facilita il compito in questo senso mi facilita il compito allora sale il livello di questa condizionata sul doppio chilometro in pista sabbia il perno della contesa potrebbe essere futuro anteriore sempre al top è affietatissimo addirittura scusate con l'interprete ma la sabbia rappresenta un'incognita Peppe Guccio non so se ce lo potrà confermare infatti meglio aspetta aspetta la sabbia potrebbe essere un'incognita per futuro anteriore come sta? sta bene continuare salutato sei andato? no continuare no però il cavallo sta bene il tracciato in sabbia non è il suo preferito diciamo non si esprime al meglio diciamo che ci sono cavalli che lo fanno molto meglio noi speriamo sempre in una piazza anche se sta bene però in questo tracciato ci sono cavalli che vanno più forti a questo punto vediamo se potresti essere d'accordo con Buonarrigo che dice che meglio la linea da seguire sarà time trial quella tracciata da time trial che da quando è scesa a Siracusa sta continuando a scoprire con lì a Roile o Ele eclettica in grado di sovvertire linea sfavore oppure Easy Ring piuttosto fresco e rispettato è piuttosto pericoloso attenzione nel contesto Easy Ring mi ero distratta altri possibili in chiave piazzamento potrebbero essere Preston spesso alterno difenditi ora con peso migliore London River che anche in queste categorie in passato si destreggiò discretamente sintetizziamo Easy Ring Time trial e Lì a Roile Olet per Massimo Bonarigo adesso andiamo il parere di Diego Cutrale che conosce la forma locale e parla di 5 soggetti a lottarsi la corsa Time trial che ha dimostrato l'ottima condizione con 2 successi Preston resta il cavallo base quindi il soggetto da battere Lì a Roile Olet sembra aver ritrovato la forma perduta e quindi potrebbe in questo senso essere ancora pericolosa Easy Ring e Gasquet pronti a dare filo da torcere Regia che numeri date voi? Che numeri date ora? A voi e di numeri 1, 2 e 3 1, 2 e 3 dai dagli più impegnativi 1, 2 e 3 allora andiamo avanti visto che abbiamo fatto infatti scusami volevo ritornare per un attimo alla terza corsa perché Diego Cutrale mi ha fatto arrivare un po' più tardi il pronostico allora parliamo della della vendere abbinata al premio Sertorio Quinto 1200 metri della pista sabbia Neon Glitter dovrebbe farcela ma troverà un avversario molto pericoloso Assalia che debutta sul tracciato ma ha dimostrato di avere ottimi mezzi altre alternative Luxin Alcana e Rainbow Vangel e già che ci sono voglio portare i saluti di Eros Pedà a Raffaele Gambino che piacere che piacere un bravo ragazzo lo rispetto lo stimo e tutta la sua famiglia suo fratello ora spero lo dico in diretta spero che sta seguendo sabato non mi fare buca perché dobbiamo andare a mangiare fuori ma così fanno anche gli inviti per via televisione me la date la trio in ordine su questa corsa mi rimettete la schermata grazie la trio in ordine in ordine la voglio allora 8, 9, 3 8, 9, 3 quindi Piave Preston Gasquet invece per Peppe Cuccia questo è l'effetto delle interviste di Cavalli ed Intorni 9 Preston 4, 3 Easy Ring e Gasquet anche lui ha cambiato è risalito Gasquet nelle preferenze di molti va bene andiamo sulla sesta corsa invece che è in Pena sui 1400 metri 3 anni oltre in pista piccola sono 8 soggetti alla via dove c'è Bivago che ah c'è la quinta scusate io perché non avevo letto bene c'è la quinta corsa per i 3 anni oltre handicap discendente 1600 metri pista grande vedi regia che non sei tu che dai numeri sono io che mi sbaglio la quinta con la sesta premio Voile Miglio quindi in pista grande è per 10 soggetti al via scende fa i roll di categoria dice Vincenzo Schiavone regolare la roccaccia e postarci ma il punto fermo della corsa potrebbe essere il numero 5 Gret Sligo che è sicuramente una discreta forma che è messo bene in perizia 59 kg e mezzo quindi potrebbe esprimersi bene da non sottovalutare di già il numero 1 come una sorpresa per 63 kg di perizia che ne pensi è così voi non siete impegnati in corsa no vi state preparando per fare il colpaccio poi allora Raffaele chi preferisci in questa corsa io quando do i pronostrici non voglio dare il favorito non mi piace dare i favoriti diamo i papabili diamo i più affidabili però penso che sia favorito il 5 Gret Sligo quindi lo dai il favorito questa volta sì sei convinto sì sì cosa ti convince perché è un cavallo che corre di testa se non sbaglio corre in testa però c'è il penalizzatore al 10 di staccato quindi però è a 1.6 pista grande penso che potrebbe fare la volata in pista dritta ok poi piace anche Katie Keen che non delude e poi la roccaccia l'ultima volta è seconda è una 5.5 se non sbaglio e poi vedo questo minimo particolare di Bring You Joy che corre con i paraocchi non penso che ha corso mai con i paraocchi o sbaglio tu che sei più più esperto di me a dare no no non lo so prova con i paraocchi non so perché quindi ti do 5.6.3 ok invece preferisci Peppe io a me piace molto Kate Queen secondo me lei è la favorita della corsa insieme a Gretti Sligo 5.6 quindi come base insieme a altri due insieme al 10 di Bella Stregata al Pesino quindi comunque variegata come cosa non è scontato che la perizia più alta insomma sia favorita rispetto ai Pesini vediamo cosa ne pensa il web invece Savi allora vendere sì scusatemi rimasto un po' indietro un handicap dunque sì parliamo di un discendente di categoria medio-bassa in cui Gijar riduce da prestazioni poco positive appare piuttosto deglassata e non può non essere considerata la base della corsa ma chi parla? parla Massimo Bonarrico lo stavo sottolineando che vede l'alternativa in Fairy All solo se ripetesse però il numero del rientro vittorioso perché si è persa e peraltro gradirebbe più distanza Sanza con ottima perizia e buona monta e torna sul miglio la roccaccia sempre positiva ma penalizzata al peso e soprattutto attenzione a Brigant Akiram che ha effettuato un rientro tranquillo e nel contesto conterebbe non poco per un terzetto di sorprese chiudiamo il pronostico di già Brigant Akiram e Sanza Diego Gutrale invece vede una lotta a due tra Grit Sligo e Katie Quinn dove la sorpresa potrebbero invece riservarla Fairy All e la roccaccia andiamo sulle interviste vediamo se su Brinkio Joyce svela qualcosa Giuseppe Brancato si guarda la roccaccia ha corso bene però con terreni leggermente più morbidi adesso il terreno è duro 1.6 la sua distanza perché comunque ci ha vinto poi metto tra i favoriti Katie Quinn anche se la sua ultima uscita diciamo è stata un po' problematica perché era convinto di vincere e poi metto Brinkio Joyce che sempre figura al palo anche se l'ultima prestazione come ripeto non è ben figurato poi altri cavalli che mi vanno all'occhio il numero 8 Sanza che è corso bene i cavalli di Scalarusa li portano bene in forma quindi metto Sanza la roccaccia e Brinkio Joyce era Giuseppe Bologna naturalmente che si è espresso sul cavallo la roccaccia invece ci guardiamo Giuseppe Brancato su Brinkio Joyce sfortunata è l'ultima Brinkio Joyce oggi che corsa potrebbe venire fuori? lo schema è sempre uguale a quello della volta scorsa 10 partenti una corsa affollata parecchi con chance la cavalla sta bene abbiamo cercato di recuperare diciamo questo piccolo infortunio della volta scorsa la ripresentiamo al meglio della condizione chi c'è da battere? da battere sicuramente la roccaccia e come alternativa Gritti Sligo troppo peso per Gijà? sì non sta brillando ultimamente 63 kg sono tanti per una cavalla per una femmina che sicuramente potrebbe essere una sorpresa avete cambiato opinione anche questa volta? no fermi con la vostra va bene andiamo alla vendere allora sesta corsa siamo 1400 metri in pista piccola per i tre anni oltre ci sono otto soggetti al via netto favorito Bivago sicuramente per le sue categorie scende infatti dice Vincenzo Schiavone alternativa valida Culer numero 4 dello schieramento attenzione al rientro di Pinsky che ne pensi Peppe? è così? sì io vedo Bivago credo superiore a questi cavalli qua poi c'è Pinsky che negli anni precedenti ha fatto bene belle categorie belle corse non so perché ma a me piace questo Paco Laki è un cavallo abbastanza pazzo proprio pazzo il vero senso della parola è pazzo perché vedendolo la mattina è anche caratteriale pazzo sì è pazzo sì la mattina lo esce giarratana sembra tranquilla appena entra in pista si trasforma infatti oggi l'ho visto in che senso si trasforma? diventa pazzo si scatena si scatena sì ma si scatena si mette a correre sì sì scarta si diverte diciamo lui si diverte in questo modo però quando galoppa galoppa abbastanza bene quindi spero che in corsa si aggiusta un po' la testa e e si metta a correre poi anche sia il sette di steccato quindi sembra un po' difficile però siccome mi piace lo do allora bivaco numero tre il numero sette come sorpresa e oltre a bivaco chi mettiamo? Pischi ok invece Raffaele? ma a me piace molto con l'air con l'air con l'air e poi da non togliere il bivaco però il quattro nell'ultima uscita anzi nelle ultime uscite sta correndo bene sta correndo bene quindi penso che potrebbero oltre la corsa col tre gli altri cavalli non li conosco perché come ha detto lui l'otto correva tanto tempo fa e Paco Laki è pazzo quindi non li conosco vi denunzieranno il team Luppino Cannarella vi denunzierà per quello che state dicendo va bene quindi ti do l'accoppiata tre quattro e con questo cavallo è pazzo speriamo che ritrovi la lucidità andiamo sull'intervista con Daniele Scalora che è impegnato su John Queens rientra John Queens e affronta per la prima volta l'uscita siracusana cosa ci puoi dire? il cavallo c'è una corsa in carriera qui a Siracusa sta rientrando da due anni che è stato fermo speriamo di un bel rientro i cavalli che temo sono secondo me il favorito di Bivago pure se nelle ultime prestazioni un po' paghe però a vendere vince bene sui 1.4 qua poi mi piace Coler e il rientro di My Toil dal web invece allora c'è davvero poco da inventare così almeno confermo quanto detto Massimo Bonarigo Bivago ha in mano diverse lunghezze di margine per potersi affermare senza problemi nei confronti di Culer e Alcacone che comunque non sono abituati a competere contro soggetti del suo calibro quindi Bivago assolutamente il cavallo da battere per cercare di allargare la scelta in vista di una trio un po' ghiotta segnaliamo My Toil figlio di Jeremy ci ricorda Bonarigo che non aveva affatto maldebutato a Milano e Pischi che rientra da quasi due anni ed è affidata a Cannarella e poi ci augura buon divertimento e noi ringraziamo Massimo Bonarigo per i suoi pronostici andiamo con Diego Cutrale che si affida ancora una volta a Bivago e Culer che secondo lui non avranno avversari quindi sentenza di Diego Cutrale saranno loro due a darsi in battaglia per la piazza d'onore piacciono Alcaconeac e Rientrante Pischini sono quelli i nomi che emergono da questa prova di fesura Peppe Guccia la quota pazza Pagolacchi lo dice pure il nome quota pazza Pagolacchi e invece Raffaele adesso sul fatto 3-4 è il 7 di cavallo pazza voglio la quota di un cavallo della giornata sulla giornata su una corsa qualsiasi mi hai detto io c'ho il cavallo oggi tu hai detto io c'ho un cavallo ma io non posso svelare però i trucchi scusami devi condividere siamo sui social e sui social si condivide sceli sceli se io do un cavallo vincente poi la quota scende e io prendo no soldi patate quindi i trucchi del mestiere non bisogna mai non ci posso gradere non me lo vuole dare me lo dai in privato sto scherzando e dai cambia e ne dai un altro su quello te lo metterò quello te lo tieni quello te lo tieni però ne pagherai le conseguenze con i cari amici essere amico vuol dire condividere e tu non puoi condividere niente no vabbè tanto in diretta ci sta seguendo poi te lo do ah ecco lui c'ha gli amici suoi vabbè allora lo vedi un cavallo fra tutti che potrebbe far quota far sorpresa oltre a quello che tu hai in mente soprambarec ok che corsa era mi piace questa la seconda alla seconda va bene Sabina a cuccia il cavallo di cuccia no è la quota pazza quello lui ha detto che il cavallo è pazzo ma vola quindi se lui aspetta che finisce la pazzia per arrivare tiro via va bene allora grazie mille per essere stati qui con noi a Peppe Cuccia e a Raffaele Gambino grazie anche a Sabina e a quanti avete naturalmente contribuito ringraziamo il signore che ha fatto tutti i commenti precisi precisi e puliti e puliti ringraziamo Massimo Bonarrivo che ci segue da Monza quindi dal nord che segue con attenzione anche la pista siracusana bene grazie a chi vorrà venire poi all'ippodromo del Mediterraneo anche giorno 16 e naturalmente vi ricordo che dovete se volete partecipare attivamente anche iscrivervi per il palio per il gran galà dell'asino del mulo e del cavallo Patrizia voglio fermarmi ancora a Siracusa e voglio ringraziare Diego Cutrale Giorgio Spadaro e tutti gli altri che ci forniscono i loro pronostici lo diamo un po' per scontato lo diamo un po' per scontato mi sono fermata perché è la prima volta quindi volevo menzionarlo in questo senso in effetti lo diamo un po' per scontato ma è anche giusto insomma e facciamo buona ipica solo grazie agli addetti ai lavori quindi buona ipica anche per questa settimana e ci rivediamo all'ipodromo del Mediterraneo domani sabato qui sui tracciati alle 15 arrivederci e ci rivediamo Grazie a tutti